Buonasera, buongiorno ragazzi, bentornati a oggi, nuovo video sulle tattiche che vi preannuncio sono le stesse per quanto riguarda il 4-4-2, il 4-3-2-1 del video di un mese e mezzo fa, però col fatto che rimando spesso la gente mi dicono eh ma il video è vecchio, quindi nuovo video in cui ne parlo ma sono le stesse, quindi non mi dilungherò troppo ho aggiunto il 4-2-3-1 che c'era, mi pare anche nell'altro video, non so se è cambiato vi dico la verità, secondo me sì, vado a memoria e mi sono trovato un po' meglio, quindi parlo anche un po' di quello come vi ho detto dopo la patch vi parlo anche, però lo facciamo dopo, quindi per chi interessa questa parte alla fine delle tattiche di Zidane che ho iniziato a provare oggi, intanto andiamo su FIFA Zidane che ho iniziato a provare oggi, dopo ve ne parlo perché ce n'è da parlare un attimo secondo me e poi comunque continuerò a testarlo allora tattiche, questa è la squadra, non scambiabile, come sapete quest'anno faccio schifo, faccio cagare c'è addirittura Valverde qua in panca purtroppo il 4-4-2 come vi ho detto è lo stesso di prima equilibrato, equilibrato, passaggi diretti 50-60-55 con 6 giocatori in area onestamente la profondità l'ho tenuta io usavo già 60 prima, l'ho tenuta così 71, non lo so, mi dà sensazione di essere a volte poi un po' troppo sbilanciato con 60 mi sono bene o male sempre trovato bene, quindi sto tenendo questa per il resto abbastanza classico, come sapete le istruzioni, rimani centrale, rientra in difesa tutte e due le punte se fate fatica con l'L1, che non siete magari bravi, non lo so, non lo usate l'L1 cosa fa? guardi il giocatore, premi l'L1, il giocatore che ha ugualato scatta provate a mettere magari inserisciti alle spalle una delle due punte per vedere magari qualche movimento in più comunque testate, è importante che anche voi ci mettiate in mano e vedete come vi trovate meglio Rashford rientra in difesa, accorcia, entra in arabe per il cross così come anche l'Hansen, ai due esterni uno dei due centrocampizi resta dietro e copertura al centro in questo caso De Jong il mio Bellingham, adesso è Bellingham, è stato la Bon Mati, è stata la Putegas potrebbe essere Zidane, ma non lo sarà sicuramente al momento attacco equilibrato, entra in arabe per il cross e copertura al centro ovviamente, come già avevo detto, questo vi dà un po' più di offensività a discapito della fase difensiva, occhio perché se perdete palla quando state costruendo l'azione vi ritrovate con un centrocampista solo, nel caso se no fate così, resta dietro anche all'altro però io lo faccio perché come vi ho sempre detto il 4-4-2 è un modulo che a volte vi dà quella sensazione di non avere un passaggio contro gli avversari bravi perché hai gli esterni marcati, le punte marcate e solo i due centrocampisti quindi cosa succede? Sono magari sulla fascia con Rashford e c'ho Bellingham che mi va a entrare in arabe per il cross o comunque mi dà l'appoggio e mi dà quel passaggio in più è una bella mano in fase offensiva, bisogna stare ovviamente attenti dietro i terzini resta dietro, sovrapponiti tutti e due questo è il 4-4-2, il 4-3-2-1 che uso meno perché il 4-4-2 è il mio modulo main, quello che uso di più di tutti come vedete qua è uguale 5 giocatori in ara, mettete anche 6 tranquillamente istruzioni, rimani centrale alla punta e anche all'altra che volete che rimanga lì al centro mentre all'altra bilanciata in modo da quasi difendere in un 4-4-2 quando ripartite avete un esterno largo, in questo caso Rashford che rientra in difesa mentre gli altri due, qua bisogna togliere però questo, vedete non ne sono accorto adesso gli altri due rimangono al centro e quindi avete una sorta di 4-4-2 che quando difendete non è comunque male non è lo stesso 4-3 dell'anno scorso, già ve l'avevo detto nell'altro video io onestamente quando lo trovo, sblocco poi i terzini con le freccette in game mi trovo abbastanza bene ma non come col 4-4-2 perché comunque quel impastamento un po' al centro lo continuo a percepire con questo modulo qua contro gente brava quindi rimani centrale a uno dei due inseriscita alle spalle, l'ho messo a Mbappé in questo modulo perché Mbappé mi può dare la corsa mentre Son deve starmi lì per tirare a giro appena arriva la palla rientra in difesa, inseriscita alle spalle, l'ho messo anche a Rashford che anche qua è un giocatore di corsa volendo, se vedete che vi scappa troppo toglietelo, lasciate attacca a misto due centrocampisti, quelli di ruolo diciamo così, resta dietro copertura al centro mentre la terza che potrebbe essere anche una di ruolo come la Bommati, la Putegas, il Zidane in questo caso io, usando più il 4-4-2 adatto l'Ansen ho messo a entrenare per il cross copertura sulle fasce e attacco equilibrato in modo che, come sempre, anche qua mi vada a fare un po' di fase difensiva sulla fascia e diventi una sorta di 4-4-2 Terzini resta dietro, sovrapponiti uno sbloccato qua c'è il Llorente ma perché fino ad oggi avevo Cancelo che ho venduto perché gioco con i non scambiabili ovviamente fra Llorente e Lodi io farei salire Lodi voi vedete voi chi avete in base, non lo so se avete Walker per dirvi Mendy ovviamente Mendy occhio anche io ho messo quello di sinistra ma perché io gioco tanto a sinistra e qua c'era Cancelo a sinistra prima adesso non c'è più se giocate tanto a destra ovviamente andate a sbloccare quello di destra di base comunque solitamente quando metto questo modulo è perché faccio fatica ad attaccare col 4-4-2 quindi vado 4-3 frecce in giù sblocco i terzini in game e me li gestisco così se voglio poi li riblocco li gestisco con l'L1 però sappiate anche lì se perdete palla per sbaglio con i terzini offensivi è un disastro raga con questo modulo quindi occhio a vostro rischio e pericolo il 4-4-1-1 non lo uso da 55 anni quindi non ve ne parlerò il 4-2-3-1 è il modulo che dopo la patch non quello che ho preferito perché preferisco sempre il 4-4-2 ma con cui mi sono in modo trovato bene anche qua 45-60 quelli guardate quelli guardato passaggi diretti 6 giocatori in area ampiezza 55 queste sono le istruzioni mi sono trovato particolarmente bene con questo modulo nell'altro account del ragazzo con la super squadra che mi segue in live lo sa la punta rimane centrale anche qua solito discorso se volete magari lo inserisci alle spalle se vedete che fa meno movimenti rientra in difesa a entrare in area per il cross a tutti e tre i COC non metto altro svario altro solo questo i centrocampissi tutti e due bloccati in questo modulo con intercetta le linee di passaggio copertura al centro ovviamente e i terzini bloccati resta dietro sovrapponiti mi sono trovato meglio perché come vi ho spiegato nel video dopo la patch col fatto che c'è un po' meno di merda in mezzo al campo di traffico il COC è finalmente un po' più libero ha più modo di toccare la palla senza essere super pressato di conseguenza questo modulo funziona meglio perché ok che allarghi però tutto passa dal COC in questo modulo ed è importante averlo tra le linee che riesca a giocare un minimo a pallone andiamo a parlare prima di chiudere il video di Zidane che ho provato oggi sull'account di quel ragazzo che vi dicevo lui l'ha già sbloccato proprio quindi nelle prossime settimane io continuerò a giocarci i WL i playoff e tutto quanto questa è solo una prima impressione anche se ci ho fatto 20 game fra tutto però una prima impressione voglio mi prendo del tempo stavolta perché non mi è piaciuto come non mi è piaciuto il 94 se avete visto la review uscita domenica se non ricordo male non mi è piaciuto l'ho provato il primo in un centrocampo a 2 che per me non è proprio il suo ruolo e molti di voi diranno eh Dani ma Zidane non deve giocare a 2 ni perché gli anni scorsi si usava si è sempre usato e ok che non ha tanta difesa ma neanche la Putejas ce l'ha però la palla la recupera è presente la BOMMATI lo stesso discorso Zidane gli anni scorsi il stesso discorso in un centrocampo a 2 letteralmente mi è sembrato quasi tutte le partite di non avere nessuno nessuno questo è un problema che ovviamente mi fa dire che a 2 non ve lo consiglio nonostante gli anni scorsi appunto si usava anche questo Zidane a 2 che non è che mi aspetto che difenda come De Jong o come un Viera come un Essien però appunto la Putejas la BOMMATI una mano la danno questo non mi è parso così poi l'ho provato a 3 l'ho provato C.O.C. e l'ho provato punta a 3 è già molto meglio perché quando attacca è forte si sente secondo me la finalizzazione in meno da questi non troppo perché comunque gol ne ha fatti però si sente i passaggi no i passaggi passano benissimo la palla da mezzala molto meglio centrocampista 3 secondo me quello è il suo ruolo ideale insieme al C.O.C. a me personalmente però questi C.O.C. non piacciono e qua è una questione personale soggettiva a me non piacciono così mi piacciono come Neymar mi piacciono come Zico i C.O.C. piccolini e tutto quanto quindi personalmente non mi piace lì ma può essere la sua posizione può starci perché doppi passi prende tanti metri perché ha una bella falcata perché passa bene la palla e perché finalizza poi arriviamo anche al dribbling da punta mi è piaciuto ho usato stile Ginola quindi ignorante doppi passi e tutto quanto a 2 è proprio dove mi ha non lo so sono rimasto traumatizzato praticamente palla al piede non è per niente male nonostante l'agilità le skill danno una mano nì sì ma non troppo perché purtroppo anche in fase offensiva quest'anno non sono così OP possono funzionare meglio averle che non averle ma non sono così OP la cosa è che comunque quando me lo ritrovavo a 2 o a 3 a centrocampo contro quelli un po' più bravi che ti saltavano in collo raddoppio perdeva tante palle perché non è De Jong non è questa gente qua che quest'anno io onestamente preferisco sono giocatori completamente diversi o la puteglia se è l'esempio giusto quindi per me è una carta comunque in definitiva al momento da non sbloccare ma non tanto perché non mi è piaciuto a me perché fra un mese un mese e mezzo questo dura 60 giorni ci sono i toti qualcuno di voi che sta guardando questo video magari io stesso chi troverà Bellningan chi troverà uno o l'altro si accumuleranno tanti fodder si avrà un quadro più chiaro della situazione allora ci potrebbe stare e poi valutare di sbloccarlo ad oggi io un milione e otto per me questa carta non li vale come vi ho detto mi prendo la riserva di provarlo ancora perché comunque in chat i feedback erano abbastanza positivi tolto qualcuno che ha avuto le mie sensazioni la maggior parte si sono trovati bene quindi può essere anche semplicemente che un gameplay storto una giornata oggi ero un po' stanco anche vai a sapere lo riproverò ve l'ho detto e se vedrò cambiamenti vi riporterò aggiornamenti o comunque in uno delle review che facciamo ogni settimana vi infilerò anche di nuovo questo Zidane io al momento aspetterei sicuramente provatelo in prestito vi fate una vostra idea qualche amichevole così non scaldano i contratti mi dispiace perché io amo Zidane in ogni FIFA amo Zidane in real life anche se non me lo sono goduto niente purtroppo però questo è questo è quello che mi è sembrato quindi questo è quello che vi dico fatemi sapere che ne pensate anche voi io vi auguro una buona serata una buona giornata ci aggiorniamo raga con le prossime review e io Grazie a tutti.